Che cosa cambierà nelle aziende? In questo momento c'è una grandissima rivoluzione IP, praticamente stiamo passando da quello che è il buon vecchio filo di rame che arriva in tutte le case, in tutti gli edifici, a una pacchettizzazione dei dati, specialmente per la voce, in modalità IP, attraverso l'internet protocol, il famoso VoIP, le telefonate che passano attraverso internet, faccio l'esempio per esempio di Whatsapp che ha introdotto da pochissimo le chiamate vocali, oppure Facebook attraverso le videochiamate, quindi tutto quello che prima passava attraverso un canale analogico adesso deve passare attraverso una modalità IP e questa è una grande rivoluzione perché soprattutto cambia il modo di lavorare, perché si parla ormai di economia mobile e si parla anche di smart worker, cioè di persone abituate non più a lavorare in un posto fisso, ma a lavorare dove vuoi, come vuoi, non si viene più pagati per quanto riguarda il tempo che dedichi a quell'attività, ma per lo svolgimento dell'attività stessa. Quindi le aziende si dovranno adattare a questo nuovo modo di lavorare attraverso delle app, attraverso delle unified communication, attraverso i social network, per riuscire a creare una community e un nuovo senso di gerarchia all'interno delle aziende per avere una collaboration e non più uno stato in cui c'è un padrone che dice usciamo dal medioevo e entriamo negli anni 2000.